Buongiorno, un cazzo, ma perché? Perché dagli affanculo? No, ma perché così? Ma adesso dove andiamo? Un po' di dove andiamo adesso? Palestra, palestra. Palestra della salute, perché? C'è la trippa? Allora andiamo via. Allora andiamo via, di qui sotto? Questo sarà addirizzato. Come mai? Eh beh, questo serve. Anche da che serve? Per pisciare. Oh, perché almeno è più lungo e ci ha più meglio. Certo, certo, certo. È vero? Oh no, guarda che pennello sta... Oh, basta che te ne vè! Guarda che pennello che ti fai. Vabbè con questi succiacci. Guarda che pennello! È tutto dritto? Vaffanculo, guarda! Nooo! Nooo! Sta pieno! Davvero? Sta pieno! Ma fallo meglio con la bocca che scodinzola! Con la bocca di coglioni! Dai, dai. Falla meglio che... Ma non va a farlo... Fa meglio! Con la bocca che scodinzola! Sì. Falla con la bocca che scodinzola. Ci ho il cani. Falla con la bocca che scodinzola. Ma quel cazzo ne so io come si fa con la bocca che scodinzola. Così. 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 Levate di coglione. Sta pieno. Fia sta roba che sciapte di coglione. Ma perché? Comunque ragazzi sta pieno. Ha salito l'altra scrofa. No. Ma non dico sì che non è vero. Ha salito l'altra scrofa. Tira tutto se dili. Tira su sta spalliera. La spalliera? Che è la spalliera? Ha salito l'altra scrofa. No vabbè non si dice. No. Stavolta no. Non era vero. Il cincilla come sta? Come sta il cincilla? Eh? Vatta. Dove sei arrivato? A la mano. Un chilometro e sette. Nonno passeggia io. Ho un campo militare qua con Cecilia. Guarda. Come è? Senza niente come te? Certo. E poi non fai dip. Dip. Certo. Mazza. Si raccolgono i pesi quando si allena. Eh Cici? Ma che cliente. Eh. Mamma. Che umiltà. Mamma mia. Solo che è una ragazza eh. Dicono queste cose. Si perché sarà Simone quel cazzo. Dove sei andato? Ecco la fa bianca paura che rompe. Eh. Addirittura. Non ho più paura per il cincilla. Oh, levati. Caldo. Scala. Guardatelo. Oltre il cazzo mio, Santa Chiara! S swift. Tutti sempre nel paradiso con questo uomo. Ti ingraziato che fai. Mettole! Lei è in arresto. Ma ci voleva di accesso e per te lo sportello è spento. Lei è in arresto. Qual è? In arresto. e magari almeno finiscono le tribolette in arresto il cincillà fermo te frederì ma fa male Dio il campo no dopo di che bestemmia no le bestemmia no e allora resta fermo che benacchio a bambi fa male ma sta in testa una canzone a me nonno come fa bellezza 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 chiaramente cantata a me nonno non rende fate swipe e andate a sentirla bellezza questo è questa va bene ma che fai ma tu che fai rompe la carta è scemo è in grave rompe la carta fermo no iovi posso com'è che te l'ha dato il muso posso com'è che te l'ho iovi che c'è si tra le gamme c'è io va andata fuori mannaggia no 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 doppia raga questa è scusica per anni fermate 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 non c'è quello che c'è ma la mano è caliente e il prodotto lo taglio solo io l'essere perfetto oh 7 sono io il numero 7 no numero 7 sei tu uno stronzo 7 volte ma perchè perchè si che lega la tovaglia di qui stronzo 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 ma è rubato vai è il gioco dell'estate ma mette giù di qui guarda che cazzo è fatto ma rubato vai è bello e adesso sta fermo ah se ne è da qui ma come mai mani in piedi eh come mai mani in piedi perchè scotta così si raffredda no ma stanno fuori che sta male carciughe o no carciughe o no carciughe carciughe no attenzione riparte mannaggia la croce ma trova la croce guarda che c'è sopra tradizioni vanno sempre rispettate quando si avvia il prosciutto si fa anche la torta al testo eh nonna marì eh ma com'è sta torta al testo è buonissima per chi volessi la ricetta è sul mio canale youtube fate su hanno detto di fare qualche ricetta perchè quella con la torta al testo gli è piaciuta l'hanno provata è molto buona adesso ci impegneremo e ne faremo molte di più vero è vero vero fa vedere un po' quel sugo fa vedere mamma mia mamma mia agnello l'arrabbiata con la torta con la torta al testo cioè ragazzi sono le 5 le 4 del pomeriggio assurdo oh no ma perché ma come che è con quella patria ma che stai fa ma tu vuoi fare una p***a no che stai fa la p***a da chi da chi dal cane no ma perché ti chiappe ti tremava il braccio ma tu te ne dà un'anno mi ha fatto un piacere il mio tesoro eccole mamma mia delle torte della madonna è difficile rimanere in in seconda linea a casa mia perché stanno sempre a cucinare a cucinare a cucinare ragazzi è una cosa che belle giornate di merda a maggio dai piove buttali giù più dai tanto piove non ha piaciuto mai su fa le fiamme guarda che buccia giornatina brutta che spettacolo ragazzi nonno che ha suonato ma è vero oh ieri ieri ha rotti i piatti che ha fatto mamma mia come fai a sapere è rotta i miei piatti non ti dico che ha detto che ha detto e dopo vuole che soffende la signorina ma io che ha detto con sapere è corto o lungo ma che caffè con questo pelo ah con questo pelo vai a controllare il cincillà un po' ma vedi il cincillà ma vedi il cincillà ma vedi il cincillà ma vedi no benedicto la detta la detta vai le benedizioni vai vai benedizione benedicto impotenti sneus e te parli bestemmiore un debilio e se ne stessi dicono a me genna che dici tu non parla genna non parla non parla non parla eh 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 sì 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 te puoi te puoi capisci in cazzo capisci in cazzo tu capisci in cazzo tu un pezzetto di che eh quanto stai a mangiare quanto stai a mangiare eh o no no che dieta è questa che dieta non puoi cascarire e dopo ma lava le mani fai vedere vai 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 come si lavano le mani come vai vai tutto il vetro scuola la faccia per bene tutto per bene vai vai fai vedere a Mauro come si lavano vai come si fa come come farlaveli laveli bene dai per bene vai boh cazzo cazzo depoglio no 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 palazzo dai 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 capisci in cazzo capisci in cazzo no ci siamo ci siamo è tutto pronto per una serata fantastica vai com'è vai popororo 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 capisci di cazzo capo capisci di cazzo